Bentornati fratelli di tuberanza in un nuovo episodio su Dragon Ball Legends E' appena uscita la nuova batch di Jiren Massima Potenza LF o Legends Limited E noi proveremo a trovarla adesso insieme Ma prima di cominciare trasmettetemi la vostra fortuna con un bel pollicione all'insù Grazie mille Allora, andiamo su Sammon Devo essere sincero boys, secondo me questa è un'ottima batch Perché all'interno troviamo delle Sparking e Legends Limited molto forti e molto utili Al di là di Jiren nuovo che è bellissimo Lo troveremo con 1200 Zeta Power Con un rate di 0.5 Che comunque non è proprio da buttare Poi abbiamo il Vegeta giallo ragazzi che è fortissimo a mio parere Poi sotto abbiamo questo Vegeta Legends Limited verde Che a breve, cioè successivamente, dovrebbe ricevere uno Zenkai Non c'è il simboletto, quindi deduco che attualmente non c'è Non è disponibile, credo Poi tra l'altro c'è anche questo Bills Che se non sbaglio è nuovo Credo sia questo Sì, penso proprio di sì Non me lo sono studiato Quindi non so dirvi molto Però raga, tutte le altre Sparking sono molto molto buone Quindi diciamo che questa batch merita Ovviamente, anche solo per Jiren Di essere pullata Peccato che all'interno non ci sia il mio Freezer Perfect Form Legends Limited Che è tra l'altro quello che sto cercando Per il mio Lineage of Evil E completarlo al 100% Adesso però Va dalle ciance Iniziamo con una Consecutive Summon Da 300 Crono Crystal Ne ho 29.000 raga E ho intenzione di investirli tutti Finché non trovo Jiren massima potenza Vamos Va bene Tre navicelle Goku si trasforma tra l'altro molto bene Scambio di pugni Scritta rossa Mi sta bene Mi sta bene Vabbè Freezer è infartato quindi Non è un'animazione particolare Tantomeno un'animazione da Legends Limited Però Diciamo che ci sono alcune Sparking Ci sono alcune Sparking molto buone Tranne lei Tranne lei Va bene Chillhead Va bene per il mio Lineage Buono Buono 7 stelle plus Mi piace Raga Non ci possiamo lamentare Prima molti Due Sparking su tre Allora ho fatto bene a dire che mi sento fortunato Adesso però Adesso però Mi devi dare Jiren Caro Dragon Ball Legends O Turujuro Me lo devi dare O Turujuro Le sfere del drago Non vogliono dire tantissimo Di certo Di certo Non credo vogliono dire Legends Limited Eh vabbè però Freezer Collabora un po' Mannaya oh Collabora cavolo So fai finta Reagisci Vabbè Vabbè dai Vabbè 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 Dai Non è male Che ce ne sia una sola E infatti E infatti raga Come vi dicevo Le sfere del drago Non vogliono dire esattamente Un corno E infatti E infatti Come potete notare Ho trovato tutta merda A parte questo Vegeta Che diciamo che ce lo possiamo Pure pure Far andare bene Ma Barter Che dopo l'ultima live Sul sito Viola Non è che se la Passa benissimo Soltanto chi era presente Sa Ok ci sono abbastanza Spacepod Però sempre Su una Mac Siamo Quindi A meno che adesso Non succede qualcosa Di devastante Ok Freezer Questa volta Decide di collaborare Una mezza collaborazione Boys Perché onestamente L'animazione Non è Da Legends Limited Purtroppo Vabbè Tora va bene Ci sta Ci sta E' buono per il team Con Non mi ricordo chi Vabbè Dai Bardak Dai Ok C'è Allora Per essere 700 Crono Crystal E' andata malino Per il momento Però non mi voglio Ancora lamentare Boys Scusate Fatemi un attimo dare un'occhiata Alla step list Questa costa mille La prossima mille E poi c'è quella free E allora regà Io mi voglio completare Questo giro In questo video Perché sento Che Jiren È alle porte Lo sento Cioè Sento Laura Capito no? Come tipo Ragazzi Ragazzi il ghiacciaio Ragazzi fermi tutti Ghiacciaio Fermi tutti Non ci agitiamo Non ci agitiamo Calmi Calmi Calmissimi Ok 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 Fa Q Vegeta Fa Q Sì È un'ottima animazione Perché Ghiacciaio Chiama LF Ghiacciaio Chiama LF Deve solo Essere Quella giusta Se non c'è la scritta Skip Possiamo iniziare Quasi ad esultare Oh e dove sta però Dai muoviti Guarda Ma me la dà per ultimo Ma tu guarda Ok c'è la scritta Skip Legends Limited Lord Builds Eh credo che l'animazione Sia già andata Ragazzi Eh vabbò Raga Però Devo essere sincero Devo essere sincero Una bella multi Ok Altra da mille E poi c'è la free Boys Duri eh Dobbiamo reggere duri Perché lo sento Nella free È probabile che lo troviamo Perché la free È quella che ti dà più Capito no? Namek distrutta È comunque Un'ambientazione migliore Della namek normale Va bene Bravo Ok Però mi se Ok 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 Let's go Freezer che ci rimane malissimo Perché lui voleva fare il raggio Invece se lo mette Calma Ragazzi Raga calma Va bene Va bene Va bene Va bene Per favore Ti prego Eh vabbò Fake out C'è già la scritta skip Eh vabbò Il cavolo porco duro Mannaglia la puzzona Raga Mannaglia la puzzona Mannaglia E niente Ci siamo vicini Raga Ci siamo vicini Perché lo sento Cioè Percepisco Percepisco Quel Non so che cosa Come ve lo devo dire Lo percepisco E secondo me La free È quella buona Tra l'altro Dopo sto video Vado a registrare I capsule tripli E doppi No capsule Che dico le capsule Capsule Liro Colossio Ma no scusate Vado a registrare I pool doppi E tripli Con Joseph e Blazzi Ti prego Ti prego Raga Ultima possibilità E poi Ci vediamo al prossimo video Ti prego Ti prego Ghiacciaglio di nuovo Però il loading È stato lungo Raga Un lungo loading Ok Ok Ma Fake out Potrebbe essere fake out Boys Oh La nuova extreme Janemba O Janembamba Per chi Seguisse i meme Eh no Io credo che questa sia vuota C'ho il ticket C'ho il ticket C'ho il ticket Fermi Fermi Ho il ticket Ho il ticket Alto là il sudore Alto là il sudore Dal ticket signori Può uscire di tutto Però deve esserci una buona ambientazione Se qui partiva la spada di Trunks Magari se adesso Arrivasse Bardak Non arriva Bardak Non c'è un'animazione Particolare Goku prende Sberle Di nuovo No Arriva Vegeta Ah Qui è sempre il Fakiu Vegeta Va bene Va bene Va bene Va bene Potrebbe essere Legends Limited Potrebbe Eh però Eh però Eh però No Eh però No Però No Allora Io Regà Però Mi dispiace Io lo sento Cioè È come se lui Mi stesse Chiamando Solo che il gioco Vuole farmi spendere Ancora un po' di più Il gioco vuole farmi spendere Non so perché Ma comunque sia Sta arrivando Nei prossimi video Lo vedrete Ne sono certo Per questo video però È veramente tutto Noi ci vediamo Con i prossimi episodi Sempre solo qui Sottuberanza Ciao Ciao